Siamo appena rientrati in hotel, scusatemi sono i capelli tutti scompigliati ma ho perso un po' di pioggia, quindi sono così. Oggi giornata meravigliosa, prima tappa a museo di Van Gogh, mi è piaciuto da morire, ho visto anche i girasoli, sono contentissima e ho messo anche una foto sul post. quindi andate a vederlo e tutti i quadri erano pazzeschi avevamo anche la guida in italiano sulle cuffie che ci spiegava tutto quanto meraviglioso vi consiglio di andarci se venite ad Amsterdam seconda tappa Madame Tussaud museo delle cere io ce l'ho già stata a Londra è stato bellissimo e ho voluto portarci Gian che non ce l'ha mai stato ed è stato super divertente e poi abbiamo fatto un giro per negozi ho preso qualcosa poi vi mostrerò passando all'argomento cibo argomento molto importante chi mi conosce bene sa che io sono amata delle patatine fritte e mi è stato detto che le patatine fritte di Amsterdam sono le migliori io pensavo che le patatine fritte fossero tutte uguali in realtà effettivamente hanno qualcosa in più non mi chiedete che cosa ma sono pazzesche e sempre per quanto riguarda il cibo tipico ho guardato su internet e mi è venuta fuori questa foto quindi domani lo proveremo a vederli così sembrano buoni vi farò sapere e niente ovviamente abbiamo ancora un sacco di cose da vedere qui ma nei prossimi giorni rimedieremo ma per adesso Amsterdam mi sta piacendo tantissimo se non siete mai stati ve la consiglio assolutamente ma per adesso vi do la cosa vorrei